Ultima udienza prima della pausa estiva del processo di rampa annunziante. Questa mattina sono stati sentiti altri testimoni, tra i quali Don Ciro Cozzolino, Rossana Cima, Fabrizio Di Domenico e Fabiano Querceto. Acquisiti invece le dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria di Vincenzo Matrone, test indicato da Mario De Camillis per la pratica di mutuo non più finalizzata, e del tenente colonnello Filippo Melchiorre, comandante del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. Particolarmente interessanti sono state le parole di Fabiano Querceto, consulente informatico della procura. Attraverso il registro attività del computer di Anillo Manzo è stato possibile risalire al contenuto di una cartella denominata Condominio Rampa Annunziante, cancellata tra le 12.08 e le 14.42 del 7 luglio 2017. All'interno del Mac c'erano due file che non è stato possibile recuperare. Uno di questi file è un progetto realizzato con Archicad, un programma in uso a professionisti di progettazione e che serve a costruire disegni tecnici, modelli tridimensionali da mostrare al cliente. Altro passaggio significativo è rappresentato dalle chat ritrovate sul telefono di Giacomo Cucurullo. Ne ho evidenziate tre in particolare, perché poi di queste chat sui telefoni di Anillo Manzo, Gerardo Velotto e Massimiliano Bonzani non c'era traccia. Ascoltati infine i due funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Rossana Cima e Fabrizio Di Domenico, che hanno svolto una serie di verifiche del profilo catastale dell'immobile di via Rampa Annunziante, facendo emergere una serie di difformità tra planimetrie consegnate tramite DOCFA, software usato per la compilazione di documenti tecnici catastali e stato dei luoghi.